In questo video vi spiego come installare due metatrader 4, due metatrader 5 o anche più metatrader all'interno dello stesso pc. Mi è stato richiesto da alcuni clienti della masterclass e quindi ho fatto questo video. Innanzitutto ci serve l'eseguibile del broker. Come sapete io lavoro tanto con XM e quindi andiamo sul sito di XM, lo trovate elencato nell'elenco dei broker preferiti e poi all'interno della piattaforma andate su piattaforme di trading, scegliete la versione MT4 e MT5, per noi sarà indifferente, quindi ne prendo una a casaccio e da lì scaricate il sorgente, quindi clicchiamo su scarica. Una volta scaricato lo troverete naturalmente tra i downloads. Cosa fare? Avviare l'installazione. dare l'ok. Eccolo qua. E a questo punto anziché scorrere avanti e quindi sovrascrivere eventuali metatrader che avete già sul pc bisogna dirgli di mettere una nuova cartella in modo tale da avere due o tre o quattro versioni di metatrader. Quindi andiamo su impostazioni. vedete qui cartella di installazione. Se la lasciassimo così andrebbe a sovrascrivere il file presente. Quindi ad esempio qui noi mettiamo un trattino o uno spazio, mi piace scrivere di solito dei trattini, non lasciare spazi, magari mettiamo test doppia mt4 ok? Così ricordiamo che è questa. Anche nei gruppi di programma di solito vado a ricopiare ciò che ho scritto qui in modo tale da averne due distinti. Possiamo anche evitarci di aprire MQL Community. Clicchiamo su avanti e continuiamo con la fase di registrazione. Una volta completato il tutto eccolo qua. Possiamo cliccare su fine e torniamo nel nostro desktop. Nel frattempo si sta aprendo la piattaforma. Eccola qui nell'altro mio schermo. Adesso la porto qui. Ok? Si sta aprendo questa piattaforma. Quindi che è quella nuova. Vedete ancora non è neanche collegata. È proprio nuovissima. Allora che cosa è successo? Abbiamo visto come ad esempio la piattaforma io se adesso cliccassi qui appunto ecco è quella nuova. Quindi c'è un piccolo accorgimento adesso da fare. Dobbiamo andare a trovare l'eseguibile. Come si fa? È molto semplice ragazzi. Tasto destro sull'icona. Apri percorso file. E guardate cosa c'è qui. Test doppio MT4. È proprio l'ultimo che abbiamo installato. Ma come vi dicevo probabilmente ne vogliamo due come ho fatto io. Qui ce n'è un'altra. Qui ce n'è un'altra. Queste sono MT5, MT5. Queste sono tutte MT4. Quindi come si fa? Andate un attimo un passo indietro. Ok? E qui trovate l'elenco delle MT4. Io ne ho tre ad esempio. XMMT4 XMMT4 10 2023 XMMT4 Test doppio MT4. Ognuno di queste è una metatrader. Purtroppo però c'è un piccolo difetto. Probabilmente vedete solo un'icona sul PC attualmente. Quindi questa qui è l'icona dell'installer che è questo qui. Terminal si chiama. Lo trovate perché applicazione ha un peso più alto rispetto agli altri. Ed è questo qui. Come facciamo a sapere che è veramente questo? Proprietà. E guardate cosa c'è scritto qui. Allarghiamo eventualmente questa finestra. Se si può allargare. Doppio MT4. Quindi se io volessi invece l'altra. La 1023. Ci clicco. Ho Terminal. Vedete? Tasto destro. Invia a desktop. Paff. Nel momento in cui l'ho inviata a desktop. Adesso devo andare a trovare dove è arrivata. La vado a trovare. Sì. Dovrebbe essere questa. Me la sposto qui sopra. Ok. Qui sopra. Vediamo se ho fatto bene. Proprietà. Eccola qui. XM24 10 2023. Quindi cliccando questa qui. Adesso mi vado ad aprire quella nuova. Vediamo cosa si apre. Eh sì. Esatto. Si è aperta quest'altra. Vedete? Se invece vado a utilizzare questa qui. Si apre quella appena installata. E così via. A cosa serve tutto questo marchigegno? Serve per avere diverse metatrader sul pc. Magari ognuno di noi preferisce avere su ogni metatrader delle impostazioni diverse. Io ad esempio alcune le utilizzo per lo spread trading. Altre per l'intraday trading. Altre solo per analizzare le azioni. E preferisco magari avere metatrader separate. Ok? In modo tale che magari me le apro anche tutte e tre. Me le guardo in contemporanea. Bene. Se questo video vi è stato utile. Fatemelo sapere. Lasciatemi un mi piace. Un commento. Sarei felice di magari aiutarvi anche con altri video tutorial. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.